Tutte le scelte hanno un prezzo, il bilancio preventivo portato in aula dalla maggioranza di centro-sinistra, la guida di Lecco prevede uno scostamento di oltre 7 milioni di euro, la scelta di applicare l'addizionale IRPEF al massimo coefficiente consentito. Una decisione che non ha convinto due consiglieri del Partito Democratico, Clara Fusi, che già l'anno scorso aveva espresso perplessità sul documento di pianificazione economica, e Giovanni Tagliaferri. Così, in apertura di seduta, i due hanno annunciato l'uscita dal gruppo del Partito Democratico e la formazione di un gruppo misto, restando però nel perimetro della maggioranza. Non è una scelta che faccio questa a cuor leggero, spinta dall'emotività, né senza sofferenza intima e profonda. Certo, sono consapevole che è molto impegnativo, forse anche difficile, da avere nel gruppo persone che, come me, hanno ed esprimono un pensiero diverso, anziché allinearsi per appartenenza o per altri motivi. Rinnego il percorso fatto? No. Rinnego quello che è stato condiviso come proposta di programma elettorale? No. Si tratta di una decisione sofferta, a lungo meditata e ponderata, presa in piena libertà di coscienza e con doveroso senso di responsabilità verso il Consiglio e verso la città. Ci sarà tempo e modo per confrontarci in spirito costruttivo sul senso di questa mia decisione, sempre tenendo al centro il bene della nostra città, che siamo chiamati a rappresentare e alla quale sento di poter dare ancora qualcosa, nel solco di quel programma che due anni e mezzo fa abbiamo tutti sottoscritto. Prima della discussione del bilancio slittata alla seduta di martedì, Consigliere non ha dibattuto a lungo sulla decisione di applicare il massimo di addizionale IRPEF consentito dalla legge per far tornare i conti e non tagliare i servizi. La tassa però non interesserà i redditi inferiori a 16.000 euro annui. Una decisione difesa dalla maggioranza è contestata dall'opposizione. Dei tre ordini del giorno presentati dalla minoranza è stato approvato quello firmato da Emilio Minuzzo, capogruppo di Lecco Merita di Più, che impegna la Giunta a valutare di rivedere l'applicazione dell'addizionale IRPEF nel 2024, una proposta che con le debite e correzioni è stata giudicata di buon senso dalla maggioranza e quindi approvata.